Batteri fecali nell'acqua di una fontanella di colleatterrato basso e scatta il devieto precauzionale di uso potabile in tutto il quartiere Terramano. È quanto previsto nell'ordinanza firmata oggi dal sindaco Gianguido d'Alberto per vietare l'uso dell'acqua potabile, salvo nel caso in cui venga fatta bollire per almeno 10 minuti. Ad attivare le procedure di tutela della salute pubblica è stata una nota che la ASL ha inviato in mattinata al Comune dopo controlli effettuati dall'Arta su un campione prelevato presso il punto Fosso Inferno in via Don Milani, che hanno evidenziato la presenza di batteri coliformi ed escherichi a coli. Risultati non conformi ai parametri di legge. L'ordinanza del sindaco intima alla Ruzzoreti, gestore del servizio idrico, di adottare tutte le azioni necessarie per il ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua. Proprio la società acquedottistica ha reso noto che si tratta di una lieve non conformità, registrata solo su un campione di acqua prelevato da una fontanella pubblica del quartiere. Il ruzzo ha provveduto subito ad effettuare campionamenti nell'area di collaterrato e l'acqua erogata presenta tutti i parametri immediatamente misurabili, ossia cloro residuo e torbidità. Per cui la misura, precisa la stessa società, è stata emessa in via estremamente precauzionale. I risultati del doppio controllo a cui è stata sottoposta l'acqua, sia da parte di Ruzzoreti che della ASL, saranno disponibili domani.